Ciao a tutti ragazzi, finalmente dopo una lunga attesa e dopo tanto tempo anche io sono finalmente diventato partner di Youtube Ragazzi questa è una cosa che io aspettavo veramente da molto tempo e infatti sono contentissimo per questo Perché infatti era uno dei miei scopi di Youtube e infatti finalmente sono diventato anche io partner di Youtube Allora giorno 3 novembre verso mezzanotte meno 20 mi è arrivato un'email da Youtube dicendomi che sono stato accettato per diventare partner E infatti se vado qua nella pagina youtube.com.partners vedete che qua c'è il riquadro dove c'è scritto che sono diventato partner Allora per chi non sapesse che cos'è la partnership di Youtube è in poche parole un servizio che diciamo chiamiamolo servizio Che vi permetterà di dare delle opzioni in più per Youtube dove avrete la possibilità di mettere un banner personalizzato nel canale Infatti se voi per esempio vedete dei canali dove hanno questo banner qua sopra vuol dire che sono partner di Youtube Quindi avrete la possibilità di caricare questo banner, avrete anche la possibilità di caricare un altro banner in basso a sinistra nel vostro canale Potete mettere anche un mini banner dove c'è il vostro video, infatti se vedete qua prima c'è scritto simone97 tv normale Adesso c'è invece questo piccolo banner che ho creato io Poi avrete la possibilità anche di caricare video con una durata infinita Potete anche per esempio sospendere e riprendere i caricamenti del video quando volete Potete anche cambiare le miniature ai video, potete mettere la miniatura personalizzata Avrete la possibilità di mettere questo nuovo modulo, questo nuovo modulo che è riservato ai partner sul vostro canale E la cosa più importante che si ha quando si diventa partner è di monetizzare con i propri video Ovvero di guadagnare i soldi tramite gli annunci e le pubblicità che si mettono ai video Quindi ragazzi veramente grazie mille a tutti Ringrazio voi perché senza di voi io non sarei mai diventato partner Perché infatti è tutto grazie a voi che continuate a guardare i miei video, a commentare e a iscrivervi Perché senza di voi non sarei arrivato da nessuna parte Quindi anche mi ero dimenticato di dirvi che il 23 ottobre 2011 ho fatto anche un anno su Youtube Me ne ero completamente dimenticato, non ci avevo fatto caso Veramente in un anno è impressionante come il mio canale è salito di livello Veramente ho ricevuto tante visualizzazioni e tanti iscritti e veramente grazie mille a tutti E siccome adesso sono diventato partner adesso ho deciso anche di fare più video a settimana Quindi mi raccomando iscrivetevi perché così resterete aggiornati su quando carico nuovi video Perché adesso non ne caricherò più soltanto una settimana ma ne caricherò di più Quindi preparatevi per questo Va bene ragazzi io vi saluto Volevo anche dirvi siccome io ci avevo pensato già da prima che diventavo partner Pensavo che se io fossi diventato my partner ci avevo pensato di farmi vedere in faccia Ovvero di farmi vedere in faccia in qualche video Tanto per farvi sapere come sono Quindi se voi però ancora non sono molto sicuro di questo Quindi se voi siete interessati a vedere come sono fatto Scrivetevelo nei commenti di questo video Quindi poi vedrò un pochettino come quello che voi volete Se volete che mi faccia vedere vi accontenterò Scrivetemi anche nei commenti qua sotto i vostri suggerimenti per qualche video Quindi se volete che faccia qualche video in particolare scrivetevelo nei suggerimenti Come suggerimento nei commenti qua sotto E poi vedrò se sarò interessato e farò i video che voi volete E va bene ragazzi questo è tutto per questo video Volevo fare un video veloce per annunciare che sono diventato partner Quindi veramente continuo a ringraziare tutti voi E mi raccomando iscrivetevi al mio canale per restare aggiornati su quando carico nuovi video Iscrivetevi al mio secondo canale che è Simone Gaming TV E diventate fan della mia pagina di Facebook E seguitemi su Twitter E i link saranno nella descrizione del video E diventate anche, cioè seguite anche il mio sito web Che è www.simone97tv.blogspot.com E va bene ragazzi questo è tutto Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video